Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andiamo a vedere una partita tra due grandissimi campioni che hanno fatto la storia degli scacchi, entrambi campioni del mondo, una partita davvero allucinante dove Kasparov dopo sole 12 mosse si ritrova la regina in trappola. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo, abbiamo raggiunto i 40.000 iscritti, un risultato eccezionale direi, di cui 10.000 sono arrivati solo nell'ultimo mese, grazie veramente a tutti, non so cosa dire, sono molto contento e iniziamo. Ok eccoci qui, Anand gioca con i pezzi bianchi e inizia con pedone e4, Kasparov risponde con c5, difesa siciliana, Anand gioca cavallo f3, siciliana aperta, pedone d6, d4, c per d4, cavallo per d4, cavallo f6. Queste sono le mosse più giocate della difesa siciliana, arriva cavallo c3, Anand difende il pedone e4, segue pedone a6. Kasparov gioca la Neidorf, che è una delle migliori aperture contro 1 e4, ma anche una delle più difficili e teoriche. Comunque Kasparov, leggendario campione di scacchi qual è, ha avuto tantissime soddisfazioni dalla Neidorf. Anand qui gioca una mossa un pochino rara, ovvero pedone f4, rientra nella variante Amsterdam della Neidorf, questa non rientra tra le mosse più giocate. Le mosse più giocate infatti sono alfiere 3, alfiere g5, h3, insomma pedone f4 è proprio una mossa piuttosto rara. La partita risale al 1991, comunque la teoria era già molto avanzata. Kasparov risponde con pedone e6, segue alfiere d3, cavallo d7, i due continuano lo sviluppo, Anand mette il re al sicuro con arrocco e Kasparov invece di continuare lo sviluppo gioca donna b6. Con donna b6 in pratica inchioda il cavallo in d4 e attacca il re. Anand difende con l'alfiere, ma lascia il pedone in b2 in presa. Kasparov decide proprio di catturare questo pedone, quindi donna per b2, dopo 9 mosse Kasparov ha un pedone in più. Tuttavia qui segue una variante molto pericolosa per il nero, che rischia di farsi intrappolare la donna. Anand gioca cavallo b5, una grandissima mossa, sacrifica un pezzo, perché dopo pedone per cavallo, segue cavallo per b5 e Anand vuole intrappolare la donna del nero con mosse come alfiere d4 e torre b1. Kasparov continua con torre a5, attacca il cavallo in b5 e Anand appunto gioca torre b1. Ed ecco qui che dopo sole 12 mosse Anand riesce a intrappolare la donna a Kasparov. Quindi qui qualcosa è andato storto in apertura. Ok, non sembra intrappola, ma di fatti lo è. Qui Kasparov addirittura gioca torre per b5 e fa bene perché cerca di ottenere un pochino di compenso per la donna. Ma vediamo cosa sarebbe successo se avesse deciso di cercare di salvarla. Ok, donna per a2, unica mossa. Qui seguiva cavallo c3, attaccando la donna. Donna a3, unica mossa. Torre b3 ed ecco qui che la donna non ha più case dove andare. Qui c'è l'alfiere, qui c'è la torre, qui c'è il cavallo. Non può andare da nessuna parte e quindi questa partita sarebbe stata da abbandono. Invece Kasparov qui dopo torre b1 gioca torre per cavallo, quindi ha due pezzi in più. Ovviamente Anand cattura la donna e segue torre per torre. Beh, qui addirittura Kasparov ha due cavalli e la torre per la donna. Però la variante non è finita qui, altrimenti il nero avrebbe un grosso compenso. Ma Anand gioca una mossa stupenda, ovvero donna in a1. Con donna a1 attacca la torre, vuole intrappolare questa torre. La torre ha solo una casa dove andare, ovvero in b4. Ma dopo torre b4 la partita è persa subito. Quindi Kasparov gioca torre b6. La mette in presa, ma perlomeno non la dà via gratis. Su torre in b4, qui poteva seguire donna c3, attaccando la torre e minacciando donna per alfiere scacco. Partita completamente vinta per il bianco. Ecco quindi che qui Kasparov gioca torre b6, arriva alfiere per torre, cavallo per alfiere e donna c3. Ora Anand gioca donna c3. Bene, a livello materiale qui Kasparov ha ben tre pezzi leggeri per la donna. Ci potrebbe anche stare, ovvero due cavalli e alfiere per la donna. Il problema però di Kasparov in questa posizione è che il re è al centro e quindi vulnerabile. I pezzi sono passivi, soprattutto la torre in h8 che non sta assolutamente giocando. L'alfiere in f8 passivo. L'alfiere in c8 comunque non molto attivo. Quindi è una questione di attività dei pezzi. Qui il bianco sta un po' meglio effettivamente. Kasparov continua con alfiere 7 e cerca di sviluppare i pezzi. Anand continua con torre b1, attacca il cavallo in b6. Questo cavallo non può essere spostato altrimenti segue donna per alfiere. Quindi Kasparov è costretto a difendere con l'altro cavallo, però così facendo lascia il pedone in g7 in presa. Anand cattura in g7. Attacca la torre, Kasparov gioca alfiere f6, attacca la donna, difende la torre. Quindi un'ottima mossa. E Anand qui sposta la donna giocando donna h6. Kasparov continua con re7. Ok, la posizione di Kasparov è molto solida. Diciamo che Stopfish qui preferisce il bianco a gioco corretto, ma non proprio facile la posizione. E infatti qui Anand se ne esce con una mossa piuttosto dubbia. Ovvero alfiere in b5, non granché. Anand qui doveva giocare pedone g4, pedone g5, attaccare sul lato di re. Però gioca alfiere b5. Tuttavia Kasparov non ne approfitta e gioca torre g8. Cerca di sviluppare la torre. Qui la mossa che Kasparov avrebbe dovuto giocare è pedone e5. Solo in questo modo reggeva. Dopo pedone per e5, ad esempio, alfiere per e5. E pensate che questa posizione è valutata completamente pari. Incredibile. Ovviamente è complicata perché è sbilanciata. Invece Kasparov qui gioca torre g8. E su torre g8 il bianco sta meglio. Anand continua con torre d1. Mette pressione sul pedone in d6. Kasparov gioca ora e5, però è troppo tardi. È troppo tardi perché c'è una grossa pressione sul pedone in d6. Quindi Anand qui spinge in f5, sì. E arriva a cavallo c5. Una mossa apparentemente normale. Tuttavia, qui c'è un tatticismo. Ovvero, torre per d6. Anand sacrifica anche la torre. Guardate che casino in questa partita piena di sacrifici. È una bella partita perché Anand sta affrontando Kasparov, un giocatore leggendario degli scacchi. Considerato ancora oggi da molti come il più forte di tutti i tempi. Io credo che sia Karsian il più forte di tutti i tempi. Tuttavia, è molto difficile fare comparazioni. Comparare campioni del passato con i campioni di oggi. Questo è molto difficile da fare. Comunque, grandissima partita di Anand. Torre per pedone in d6. E Kasparov non cattura neanche la torre, ma gioca alfiere in g5. Contrattacca la donna. Se avesse catturato, qui seguiva donna per alfiere, scacco. Dopo re c7, donna per pedone, scacco. E dopo re in d8, donna per cavallo. Partita completamente vinta per il bianco. Quindi, dopo torre d6, arriva alfiere g5. Kasparov attacca la donna in h6. Però, Anand gioca donna per h7. Lascia ancora la torre in presa, ma attacca la torre in g8. Ecco qui. Allora, Kasparov qui cerca di complicarla ancora un po'. E gioca cavallo per e4. Non cattura la torre in d6. E lascia in presa la sua torre in g8. Perché? Perché sperava, appunto, in una mossa come donna per g8. Ma Anand non cattura la torre in g8. E gioca torre per cavallo. Ovvero la mossa giusta. Su donna per torre, comunque, il bianco ancora stava meglio. Però dopo, ad esempio, alfiere 3, scacco. Re f1. Cavallo per d6. Qui, comunque, Kasparov avrebbe avuto, di nuovo, tre pezzi per la donna. Non proprio semplicissimo. Invece, Anand fa la cosa giusta. Ovvero, qui cattura il cavallo in b6. Riprende indietro un pezzo. La torre rimane in presa. Kasparov gioca torre d8, minaccia torre d1, scacco matto. Ma Anand gioca semplicemente alfiere d3. Blocca la colonna alla torre. Allora, Kasparov continua con alfiere e 3, scacco. Guardate qui che succede. C'è la torre in presa. Re f1. Alfiere per torre. Ok, qui sembra che Kasparov abbia preso indietro materiale. Ma non è così, perché comunque c'è il cavallo in e4 in presa. Guardate quanti pezzi in presa in questa partita. Piena di tatticismi. Quindi, alfiere per cavallo. E ora, torre d4. L'alfiere in e4 è in presa. Anand, secondo voi, lo salva? No, gioca pedone c3, lascia l'alfiere in presa e attacca la torre. Anche se lascia l'alfiere in presa, Kasparov qui alza le mani e abbandona. Abbandona perché chiaramente questo alfiere non può essere catturato. Perché segue pedone f6, scacco. E dopo re per f6, donna per torre. Grosso vantaggio per il bianco. Ma qui, effettivamente, dopo pedone c3, Kasparov non poteva fare nulla. Ad esempio, scacco in d1, re 2. L'attore poteva andare a cercare di catturare i pedoni. Ma qui poteva seguire, ad esempio, donna h4, scacco. E dopo f6, donna h7, scacco. Il re si doveva per forza spostare. Donna f7. Minacciando di catturare in f6, il re è troppo esposto. Quindi grosso vantaggio per il bianco. Anche a livello materiale. Una bella partita. Kasparov è stato sorpreso in apertura. Facendosi intrappolare la donna dopo sole 12 mosse. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.